Buongiorno, siamo felici di ospitare questo evento di Book City con la presentazione del volume di Contardo Vergani sugli ospedali chirurgici mobili nella Prima Guerra Mondiale. Siamo nell'ospedale maggiore dell'antico edificio sforzesco progettato dal filarete della Cagranda che ospita attualmente l'Università degli Studi di Milano e direzione e uffici amministrativi del Policlinico Adiacente, un modernissimo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico tre primi in Europa ma con una lunga storia alle spalle. I beni culturali qui conservati, la raccolta d'arte, le collezioni scientifiche, la fototeca, la ricchissima biblioteca storica di medicina e i documenti dell'archivio storico narrano mille anni di storia di Milano e della Lombardia. Tra gli eventi storici più rilevanti del XX secolo sicuramente c'è la Prima Guerra Mondiale, ci sono state numerose celebrazioni per ricordarne il centenario. Chiaramente l'ospedale come tutta la nazione è coinvolta, ben 470 posti letto sono destinati alla sanità militare e 450 alla Croce Rossa all'interno dei padiglioni del Policlinico di Via Pace, il padiglione Zonda, il padiglione Ponti e altri. I registri dell'accettazione ci riportano intere pagine di militari ricoverati in questo ospedale, non sempre per ferite mediche ma anche per numerose forme di medicina. La gente si ammalava, prendeva la polmanite in frincea magari, però tra questi numerosi soldati non compare il paziente più famoso forse che è Ernest Hemingway. Hemingway in dei 49 racconti e in Fiesta descrive l'ospedale Maggiore come molto vecchio e molto bello e attraversato il ponte che scavalcava il naviglio allora i padiglioni, il padiglione Ponti, il padiglione Zonda. Ma è soprattutto nel racconto parzialmente autobiografico di Addio alle Armi che emerge la figura di un chirurgo molto brillante con il grado di Maggiore, una persona che vedremo tra poco nella presentazione del libro avere un ruolo fondamentale nella storia e nella vicenda del primo conflitto mondiale. Lascio quindi la parola adesso al professore Alessandro Polo, docente di storia della medicina dell'Università degli Studi di Milano. In questo ultimo lustro i lavori di storia militare aventi ad oggetto la prima guerra mondiale sono proliferati anche nel nostro paese. Quindi il volume di Contardo Vergani che oggi presentiamo a un pubblico più ampio potrebbe essere considerato come uno fra i tanti volumi facenti parte del mainstream storiografico specifico. Tuttavia se consideriamo che gli studi di storia della sanità militare, di storia della chirurgia militare, di storia della medicina militare, sono in effetti molto ridotti rispetto al numero di studi di storia militare e vinciamo facilmente che così non sia. E quindi possiamo rispondere positivamente alla domanda se il volume di Contardo Vergani possa avere un posto non solo fra i libri delle biblioteche degli specialisti e degli addetti ai lavori, ma anche fra i libri delle biblioteche delle persone di cultura interessate ad approfondire il tema della prima guerra mondiale. In effetti il valore della medicina, della sanità, della chirurgia militare per l'evoluzione generale della medicina, della chirurgia e dell'assistenza è stato in passato e attualmente e sarà in futuro sempre di grande rilievo. Si pensi esemplificativamente non solo al triage infermieristico che noi tutti incontriamo quando entriamo in un qualsiasi pronto soccorso dei nostri ospedali, oppure alle protesi, alle protesi che devono risolvere problemi di riabilitazione non solo relativi agli avvenimenti bellici ma anche relativi all'attività civile. Ma in un senso più generale è perché noi ben sappiamo che molti apporti elaborati sui campi di battaglia negli ospedali militari sono stati poi tecnicamente riportati alla dimensione della sanità e dell'assistenza civile. Il volume di Contardo Vergani affronta non solo termini tecnici, interni, questioni relative alla chirurgia militare, ma approfondisce anche temi di organizzazione, temi finanziari, temi economici e quindi questo lavoro ha un interesse precipo non solo per la storia della medicina ma anche per la storia generale e per l'attualità. Perché se si pensa che questo lavoro così importante è stato realizzato prima della pandemia attuale emerge a tutti e sarà facilmente rinvenibile da ogni lettore la grande attualità del tema trattato e della trattazione. Ma il volume di Contardo Vergani ci pone a contatto anche con altri concetti, con un concetto che potremmo definire con il termine di milanesità. Perché entriamo in contatto con grandi istituzioni milanesi che sono la fonte, il riferimento e il modello attuativo per l'esecuzione, per l'ideazione, per la programmazione, per la realizzazione di questa novità tecnica rappresentata dagli ospedali chirurgici mobili. In primo luogo viene ovviamente l'ospedale maggiore. L'ospedale maggiore con i suoi uomini, con il suo know-how, con le sue conoscenze, con la possibilità teorica di realizzare e di gestire un ospedale chirurgico mobile che rappresenta una sezione staccata dell'ospedale maggiore. E ciò vale non solo per gli operatori, medici, infermieri, non solo per la dotazione tecnica, non solo per la struttura operativa, ma anche per i pazienti. Per i pazienti che sono seguiti al fronte come se fossero nelle corsie dei padiglioni dell'ospedale maggiore. E lo saranno anche a guerra finita. Lo saranno anche quando si tratterà, per usare un termine moderno, di dare una continuità assistenziale. Il legame, il riferimento, nato sui campi di battaglia, con gli uomini, le strutture dell'ospedale maggiore, l'attività dell'ospedale maggiore, non cesserà per questi pazienti. Il secondo stakeholder con il quale entriamo in contatto è la Cassa del Risparmio delle Provincie Lombarde, il che ci pone in contatto anche con il tema, per usare un termine moderno, del finanziamento, del fundraising. Il ruolo istituzionale della Cassa del Risparmio delle Provincie Lombarde e della Commissione Centrale di Beneficenza era al tempo, come è oggi, di fondamentale importanza per la realizzazione di molti progetti di grande respiro come quello degli ospedali chirurgici mobili. Tuttavia a questo stakeholder istituzionale si affianca anche uno stakeholder diffuso, potremmo così dire, che è rappresentato dalla cittadinanza milanese. La cittadinanza milanese viene coinvolta in prima persona nel cofinanziamento di questa impresa e questo è un aspetto di quella milanesità della quale si parlava poc'anzi, perché è il modello di finanziamento, di cofinanziamento che consentirà la realizzazione di grandi istituzioni, si pensi all'Università degli Studi di Milano o si pensi per restare in ambito sanitario ad istituzioni importanti come l'Istituto Neurologico, oggi intestato a Carlo Besta, oppure all'Istituto Nazionale dei Tumori. Questa condivisione della cittadinanza nel finanziamento, nella realizzazione, farà sì che questo obiettivo, cioè la costituzione degli ospedali chirurgici mobili, venga felicemente realizzato, operi con successo sul campo di battaglia, ma possa portare la sua esperienza umana, assistenziale e scientifica anche nel mondo civile del dopoguerra. Adesso stazio all'autore del volume, contando a Vergani, professore di chirurgia, direttore di una unità operativa semplice dipartimentale del Policlinico di Milano e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piero e Lucide Corti che sostiene l'ospedale di Gulu in Uganda. Grazie all'amico dottor Paolo Gallimberti, dotto conservatore dei tesori dell'ospedale maggiore e anfitrione in questo scenario così fascinoso. Grazie al professor Alessandro Porro per le parole dette e per la capacità di rendere vivo il passato rapportandolo al presente e anche per aver curato la prefazione storico-medica al mio libro. E vorrei ringraziare anche il professor Mario Esnenchi, emerito di storia contemporanea all'Università Ca' Foscari che oggi non è presente ma che ha accettato di anteporre la sua prefazione storica generale al volume. Naturalmente grazie alla Cagranda che ci ospita, alla Cariplo per il suo contributo e alla Università di Milano a cui appartengo, alla Sanità Militare, al Comitato della Croce Rossa Milanese e alla Fondazione Corti per aver concesso gli auspici. E infine un grazie all'editore Paolo Gaspari perché è per la veste editoriale che ha permesso che il libro uscisse corredato da un ricco contributo di fotografie in gran parte inedite. Il libro si intitola Chirurghi in prima linea, storia degli ospedali chirurgici mobili nella Grande Guerra. Tutti abbiamo in mente, specialmente in questi momenti, quelle strutture mobili composte da container, tende gonfiabili che vengono rapidamente trasportate sugli scenari bellici oppure sugli scenari di emergenza umanitaria oppure sul sito delle calamità o ancora che vengono montati in supporto a strutture ospedaliere preesistenti durante le epidemie. Non tutti forse siamo al corrente del fatto che questi ospedali mobili, queste strutture mobili furono in larga parte sviluppate durante l'ultima Grande Guerra. E forse quasi nessuno sa che gli ospedali chirurgici mobili italiani sono nati qui a Milano in Policlinico e nel padiglione Zonda dove io lavoro. A dire la verità fino a quattro anni fa non lo sapevo neanche io che pure lavoro in Zonda da 16 anni. Finché una mattina mentre bevevo il caffè tra un intervento e l'altro alla macchinetta che c'è nell'atrio mi sono soffermato a leggere con più attenzione una lapide scritta in latino un po' defilata dalla vista che è stata posta nel 1932 nell'atrio del padiglione Zonda per ricordare il professor Baldorossi, quel brillante chirurgo a cui faceva riferimento il dottor Gallimberti prima parlando di Hemingway. La lapide in latino menzionava l'opera del Rossi sia a beneficio dei pazienti che dei feriti in guerra e la cosa mi incuriosì. Così ne nacque una ricerca che è diventata per me sempre più appassionante. Da prima in internet, poi seguendo i fili che emergevano negli archivi nazionali, l'archivio dell'ospedale maggiore di Milano in primis, ma poi il fondo solaro dell'istituto Parri, l'archivio dello Stato maggiore dell'esercito a Roma, l'archivio centrale dello Stato, l'archivio della Croce Rossa e via dicendo. Da queste ricerche che ho condotto nel mio tempo libero, che poi non è moltissimo, sono emersi però documenti e fotografie in larga parte inedite. C'erano mille storie interessanti di personaggi noti e non noti che si intrecciavano sullo scenario della Grande Guerra. E la storia e le storie erano, a mio parere, molto accattivanti, così interessanti che ho sentito il bisogno di condividerle e di farle conoscere. E così è nato il libro. Anche perché quando si parla di storia della guerra ci si focalizza di solito sulla storia politica, sulla storia sociale, sulla storia militare, prendendo in esame le battaglie, le strategie, i generali, ma di solito si lascia in disparte l'aspetto logistico e organizzativo, che invece è molto importante perché la logistica è quella che fa muovere, vivere e combattere gli eserciti. Il servizio sanitario è un aspetto fondamentale. Per il soldato è estremamente importante sapere che nessuno verrà lasciato indietro e su questo aspetto la retorica dei film di guerra è ricca di spunti e di rimandi. Lo scoppio della guerra nell'agosto del 2014 trovò tutti gli eserciti impreparati. Gli stati maggiori di tutti gli eserciti belligeranti erano ancora formati sulle dottrine del passato, sulle schemi strategici del passato, ed erano orientati a una guerra di movimento. Non avevano ancora metabolizzate le esperienze che pure si erano fatte nella recentissima guerra russo-giapponese. La guerra moderna però presto mostrò il suo volto. Il fronte si stabilizzò dalla Manica fino alle Alpi Svizzere, milioni di uomini si fronteggiavano, cominciarono a seppellirsi nelle trincee e l'unica tecnica, l'unica tattica che veniva in mente agli stati maggiori era quella degli attacchi frontali. Si cercava di vincere le linee nemiche con l'impeto dei petti e con lo slancio dell'attacco alla baionetta. Ma gli attacchi frontali si infrangevano contro il filo spinato e contro la mitragliatrice che era diventata la vera protagonista del conflitto. Masse di feriti durante le offensive si riversavano nei posti di medicazione dove dei medici, in genere degli ufficiali subalterni e dei giovani medici senza una specifica specializzazione, cercavano di ramberciare le ferite e di evacuare il più rapidamente possibile i feriti verso gli ospedali da campo o verso le retrovie. Le ferite da pallottola e le ferite da baionetta erano una minoranza e la maggior parte invece erano ferite da mitragliatrice oppure erano delle vere devastazioni da scheggia di bomba di artiglieria. Tutte le ferite erano infette e gli antibiotici non erano ancora stati scoperti. I servizi sanitari di tutti gli eserciti erano orientati soprattutto alla precoce evacuazione, al rapido sgombero dei feriti nelle retrovie secondo gli schemi del passato o secondo gli schemi tipici di una guerra di movimento. Il problema è che spesso i feriti giacevano nella terra di nessuno per ore e ore e solo a notte fonda potevano essere recuperati e soccorsi. Il libro inizia un po' coraggiosamente con un brano di diario scritto da Giuseppe Guerzoni, un bersagliero del sesto bersaglieri, che ha una prova molto sgrammaticata ma è estremamente efficace nel dare un quadro vivido di quello che doveva essere la battaglia in quei momenti. Un capitolo successivo piuttosto forte ma al quale sono molto affezionato racconta attraverso i diari dei medici e dei feriti la odissea del ferito dal momento in cui subiva la lesione fino a quando veniva poi evacuato prima al posto di medicazione, poi all'ospedale da campo, poi all'ospedale di tappa e via attraverso il treno ospedale agli ospedali regionali di retrovia. Allo scoppio della guerra noi eravamo alleati dei tedeschi e degli austriaci, facevamo parte della triplice alleanza, ma non eravamo stati coinvolti, l'alleanza era un'alleanza esclusivamente difensiva, non siamo stati coinvolti e a buon diritto si rivendicò una neutralità. L'Italia si mantiene neutrale. Per quasi 10 mesi l'Italia non entrò nel conflitto. È vero anche che con l'andare del tempo sempre meno persone pensavano che si sarebbe rimasti fuori dalla mischia. Il problema era quando intervenire, quando saremmo entrati e con chi saremmo entrati. In questo momento il mondo medico italiano osserva da vicino cosa sta succedendo su entrambi i fronti. Valdorossi, sfruttando la nostra neutralità, siamo ancora alleati dei tedeschi ma non siamo boligeranti ancora, ma i francesi ci fanno il filo perché vorrebbero che noi ci astenessimo dall'entrare nella mischia o quantomeno entrassimo, oppure entrassimo dalla loro parte, dalla parte loro. Valdorossi sfrutta questo periodo e compie, essendo maggiore medico della Croce Rossa e vicepresidente del comitato milanese della Croce Rossa, compie un primo giro di ispezione in Francia, dove osserva l'organizzazione del fronte francese, ne apprezza tutti i vari aspetti, orientati soprattutto a un veloce sgombero dei feriti attraverso delle ambulanze, una buona rete di ambulanze, sfruttando la rete di piccole strutture e di grandi città subito limitrofe al fronte, i francesi avevano il fronte in casa. I tedeschi invece, e Valdorossi compie un altro giro sul fronte tedesco, siamo alleati dei tedeschi, i tedeschi invece hanno dovuto portarsi tutto da casa e hanno costruito delle vere e proprie cittadelle chirurgiche dove soccorrere i feriti. Sono città di legno, baracche, poste in genere in un posto protetto, non si fa molto affidamento sui segni internazionali della neutralità, le bandiere incrociate nazionale della Croce Rossa. Si preferisce fare affidamento sul mascheramento e sul celarsi al nemico. Rossi osserva anche sul fronte tedesco, ne rimane molto ammirato perché l'organizzazione tedesca è veramente capillare, torna a Milano e sviluppa in una serie di conferenze con una vera e propria campagna di comunicazione diretta sia ai tecnici, sia ai laici, sia agli amministratori civili che alle autorità militari, sviluppa l'argomento, lo illustra e sensibilizza la popolazione. Nel frattempo comincia a progettare, si è fatto un'idea molto precisa di cosa servirebbe e comincia a lavorare attorno alla sua idea. Un problema particolarmente spinoso, infatti, era costituito dai feriti cavitari, cioè dai soldati che erano stati feriti a una delle grandi cavità corporee, il cranio, il torace oppure l'addome, soprattutto gli addominali, che dice Valdorossi, lo scrive in una sua lettera, in questa guerra muoiono quasi tutti. All'inizio del conflitto, alla luce delle esperienze delle guerre precedenti, diceva ancora l'aforisma di McCormack che diceva che di feriti addominali operati vivi non ce n'era neanche uno, qualcuno non operato riusciva a farcela. Così i comandanti dei servizi sanitari di tutti gli eserciti avevano dato ordine ai loro sottoposti di non operare i feriti dall'addome. Digiuno assoluto, posizione semiseduta, oppiaceri per rallentare il transito addominale e il dolore e chi ce la faceva ce la faceva. La mortalità però era altissima, per cui la ferita dell'addome era quasi una sentenza di morte certa. Alcuni chirurghi civili abituati nella loro pratica a operare le ferite addominali non accettavano questa posizione e ritenevano che i cattivi risultati si dovessero soprattutto a un problema di tipo logistico organizzativo. I medici militari non erano degli specialisti chirurghi, operavano in condizioni estremamente disagiate vicino alla linea del fuoco, gli strumenti erano assolutamente inadeguati, i malati venivano operati dopo molte ore dall'inizio dall'insorgenza della ferita. Il dibattito fra interventisti e astensionisti andò avanti per molto tempo, fino alla primavera del 1917. Baldo Rossi, che era un cultore particolare della chirurgia addominale e della chirurgia asettica e antisettica, era stato il primo in ospedal maggiore a introdurre l'uso dei guanti di gomma, era noto perché al mattino arrivava prestissimo per sorvegliare il carico degli autoclavi, apparteneva alla schiera degli interventisti e cominciò a ragionare su come poter ovviare ai problemi logistico organizzativi. Il suo parere era che si dovesse garantire una prestazione da parte di personale adeguato in un ambiente adeguato immediatamente a ridosso del fronte e con strumentari adeguati. Cioè si trattava di portare la clinica chirurgica al fronte. Ma la sanità italiana aveva anche un problema. Con la mobilitazione generale e la necessità di costituire un sistema sanitario al fronte si depauperava quello sul territorio. Rossi pensò che questo poteva essere ovviato per quanto riguarda gli ospedali chirurgici, facendo in modo che durante le offensive un'aliquota degli ospedali territoriali, dell'Ozzonda segnatamente, potesse andare al fronte e occuparsi dei feriti mentre pochi chirurghi sarebbero rimasti a presidiare Milano e il territorio e nelle fasi di quiescenza della battaglia la proporzione si sarebbe reinvertita in modo da continuare a garantire sia l'assistenza sul territorio che l'assistenza al fronte. Sviluppò con la collaborazione del professor Solaro e del dottor Dezza, suoi aiuti all'Ozzonda, una concezione piuttosto originale, quella degli ospedali chirurgici mobili. La sua idea era di provvedere una struttura facilmente montabile e smontabile, trasportata da autocarri che garantisse un ambiente adatto agli interventi chirurgici. Così progettò una baracca operatoria in linoleum montabile in quattro ore e smontabile in due, trasportato su un camion, un Fiat 15 Ter, un mulo che andava dappertutto, un camion piccolo secondo i nostri standard attuali, ma di eccezionale resa, lento ma di eccezionale resa. Questa camera operatoria sarebbe stata montata a ridosso del fronte e gli stessi chirurghi che operavano l'Ozzonda avrebbero garantito l'assistenza chirurgica, quindi il chirurgo avrebbe avuto la sua equip consueta e l'assistenza sarebbe stata ottimale. Dando però molta importanza anche alla degenza e alle cure postoperatorie, non soltanto all'intervento, l'ospedale mobile avrebbe contemplato anche, oltre alla tenda preparazione spoglio, oltre alla tenda radiologica e oltre alla tenda baracca operatoria che costituivano il cuore dell'ospedale, anche delle tende per ricovero fino a 100 posti letti. L'ospedale avrebbe dovuto collocarsi al fianco di una sezione di sanità che avrebbe svolto tutta l'opera del triage e della selezione dei pazienti facendosi carico delle feriti minori, inviando invece all'ospedale chirurgico mobile i feriti più gravi, quelli che necessitavano di un'operazione in mani molto esperte. A tutto avevano pensato, al riscaldamento, all'illuminazione, alla sterilizzazione. Il camion che recava la sala operatoria era smontata, una volta che la baracca operatoria fosse stata messa in posizione, il suo motore veniva deconnesso e connesso invece al sistema a gasogeno che garantiva anche l'illuminazione e il riscaldamento. Così gli altri autocarri, erano globalmente 6 o 7 autocarri che trasportavano tutto l'unità mobile, venivano trasformati una volta che l'ospedale era messo in posizione in ambulanze da 6 posti letto ciascuno per poter sgomberare rapidamente i feriti, recuperare rapidamente i feriti, operarli validamente e sgombrare effettivamente, efficacemente e rapidamente verso la retrovia quelli che necessitavano di farlo. L'ospedale mobile doveva mantenere una stretta connessione con la casa madre, con lo Zonda. Il padiglione Zonda era stato inaugurato il primo maggio del 15, dopo 20 giorni era stato trasformato praticamente in una sezione militarizzata, governata dalla Croce Rossa, diretta dal professor Rossi. Vi prestavano servizio una cinquantina di croce rossine. Rossi aveva molta fiducia dell'opera del personale femminile. Era stato uno dei primi a suggerirne l'impiego anche in ambito militare, anche direttamente sulla linea del fronte e non era una posizione che era stata accettata da tutti a cuor leggero. Molte cose si frapponevano alla sua realizzazione, molte perplessità. Ma Rossi aveva fatto esperienza delle sue croce rossine allo Zonda e sapeva che poteva contare sulla sensibilità femminile per la cura dei feriti. Allo Zonda le croce rossine erano cappeggiate da sei caposala che appartenevano alla buona borghesia milanese. C'era la contessa Bonacossa, c'era la cognata di Albertini, direttore del Corriere della Sera, c'era tra esse anche la moglie di Arturo Toscanini. C'erano personaggi che contavano. Questo buon tessuto, queste buone relazioni sociali furono una leva su cui Baldorossi agì per poter sviluppare la sua idea, perché da buon milanese problematico sapeva che le buone idee, se non hanno fondi, rimangono delle buone idee sulla carta e non si realizzano. E allora si mosse prima con una campagna di sensibilizzazione verso il pubblico, come abbiamo visto con la serie di conferenze con proiezioni, proiettando anche delle fotografie che egli stesso aveva ripreso al fronte e che nel libro sono illustrate. Ma anche cercando di intessere queste relazioni sociali e soprattutto decise di presentare il progetto alle autorità militari con un progetto dettagliato e molto ben specificato, in modo da non lasciare a spazio a dubbi. Non solo, ma si incaricò anche di trovare i fondi, facendo affidamento sulla generosità dei milanesi. Lanciò una campagna sui giornali, il Corriere della Sera e il Secolo, e in pochi giorni, pochissimi giorni, tre giorni, riuscì a raccogliere la somma molto elevata per costruire, per realizzare un'unità chirurgica mobile. Si trattava di circa 200.000 lire. L'intero zonda era costato, quello stesso anno, 300.000 lire. Però Rossi si rendeva anche conto che un'unità avrebbe fatto poco e allora si preoccupò di cercare dei finanziamenti ulteriori che trovò nella commissione di beneficenza della Cariplo, la quale finanziò un secondo ospedale chirurgico mobile. Un terzo verrà finanziato successivamente. Il primo ospedale si chiamerà Ospedale Chirurgico Mobile Città di Milano, l'avevano finanziato i milanesi. Il secondo ospedale si chiamerà Ospedale Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Il terzo ospedale successivamente si chiamerà Monteggia, in onore di Giovan Battista Monteggia, chirurgo al Policlinico nella fine del Settecento. Le autorità militari sono entusiaste dell'idea quando vedono il progetto, lo appoggiano e dal canto suo la sanità militare dà ordine di allestire altre sette ambulanze chirurgiche d'armata, in tutto analoghe con alcune differenze tecniche agli ospedali chirurgici mobili di Baldorossi. Così, alla fine della guerra, c'erano in servizio ben dieci unità chirurgiche mobile, tutte dirette da un cattedratico o da un eminente chirurgo, con una specializzazione e un'attrezzatura veramente dall'anguardia, sia dal punto di vista diagnostico, elementi radiologici, sia dal punto di vista terapeutico. Queste unità mobili cominciarono a entrare in servizio il 15 maggio del 16. Il 15 maggio del 1916 una lunga teoria di carri ferroviari partì dalla stazione di Porta Romana, la stazione Merci ad alta velocità, come si chiamava, era appena stata realizzata, diretta verso il fronte isontino. A bordo c'erano le prime due unità chirurgiche mobile, l'ospedale Città di Milano e l'ospedale Cassa di Risparmio delle Provincie Lombardi, uno sotto la direzione del professor Rossi, l'altro sotto la direzione del professor Ernesto Bozzi, suo amico patologo chirurgo dell'Università di Genova. Arrivati al fronte, però, il fronte isontino era quiescente in quel momento, mentre proprio il giorno prima era scoppiata l'offensiva degli alti piani, quella che verrà poi comunemente chiamata Strafe Expedition, per cui il fronte Trentino e Veneto era diventato estremamente importante. Rossi e Bozzi chiedono di essere rischierati su quel fronte, ansiosi di dimostrare la loro attività. Il problema è che le strutture sanitarie, i comandi non sapevano bene come utilizzare questo nuovo strumento e in Trentino e in Veneto effettivamente questa azione fu poco efficace. Con l'affiavolirsi della Strafe Expedition, Rossi poteva dimostrare la rapida mobilità del città di Milano, rischierandosi rapidamente da Ala a dove era, in un giorno, a 150 km di distanza, al piedi dell'altipiano di Asiago, essendo operativo la notte successiva. E quando l'offensiva l'ho permiso, ulteriormente fece un balzo avanti nel cuore dell'altipiano ai campi di mezza via. E qui, essendosi avvicinati molto alle linee, anche i risultati chirurgici migliorarono drasticamente. Essendoci affievolita l'offensiva sugli altipiani e essendosi invece riaccesa con la battaglia di Gorizia, quella sul fronte Isontino, quasi tutte, tranne due, le unità chirurgiche mobili, sia quelle della Croce Rossa, sia le ambulanze chirurgiche d'armata, vennero rischierate sul fronte dell'Isonzo, in parte sulla seconda e in parte della terza armata. Presero base a Gorizia, presero base a Quisca e qui svolsero praticamente tutto la fine del 16 e il 1917. Ci furono inenarrabili episodi. Mentre erano sul fronte dell'Isonzo, si sentì il bisogno di proiettare alcune aliquote avanzate più vicine al fronte. L'ospedale Città di Milano aveva la base a Quisca, era in territorio seconda armata e quando si fu la preparazione della battaglia per la Bainsizza, si chiese all'ospedale chirurgico mobile di allestire un'aliquota avanzata proprio sulla riva dell'Isonzo, nell'ospedale che è stato definito da una commissione della Croce Rossa internazionale come uno dei più strani ospedali della guerra, in un tunnel ferroviario. Nel tunnel ferroviario di Zagora, che tuttora c'è ed è funzionante, fu allestita la camera operatoria e una camera radiologica e una camera di degenza. Quando con la conquista della Bainsizza anche questa sede fu troppo lontana dal fronte, si proiettò ulteriormente a Ravne, proprio nel cuore dell'altipiano e per un paio di mesi rimase l'unica struttura specializzata a sostenere il soccorso di tutti i feriti della Bainsizza. Sulla Bainsizza lo sorprese la rota di Caporetto. Con la rota di Caporetto l'ospedale di Ravne era stata pesantemente bombardata, ma aveva mantenuto intatta la sua capacità di azione, all'indomani della rota di Caporetto l'aliquota di Ravne riesce a ripiegare, grazie alla sua mobilità, su Quisca, la casa madre del città di Milano e proprio grazie alla struttura mobile dell'unità chirurgica e mobile, tutto l'ospedale si ritira intatto, unico ospedale della seconda armata prendendo l'ultimo treno che dai piedi dell'Isonzo porta verso il tagliamento prima e il Piave e grazie alla sua capacità di pronto impiego può fermarsi a tappe lungo questa strada per garantire i soccorsi ai soldati in ritirata fino ad attestarsi poi oltre il Piave subito dopo la decisione della ritirata. Durante la battaglia di arresto gli ospedali chirurgici mobili della seconda armata hanno una pausa perché tutta la seconda armata si deve riorganizzare, ma poi tutte le strutture mobili, ospedali chirurgici mobili e ambulanze chirurgiche d'armata vengono rischierate sul fronte del Piave formando una vera e propria rete di ospedali chirurgici specializzati cui affluivano i feriti di ogni settore. Qui la mobilità cessa di essere importante e si installano nelle ville venete che i patrizi avevano sfollato, diventano dei veri e propri ospedali stabili e lavorano molto comodamente. Hanno però un periodo di estrema attività durante la battaglia del solstizio che è stata la chiave di svolta di tutta la guerra sul nostro fronte italiano. L'attività in questo periodo è estremamente pesante, i feriti affluiscono ma il morale è totalmente diverso rispetto a quello della disfatta di Caporetto. I soldati sono entusiasta, le infermiere descrivono nei loro diari un morale altissimo, elevato alle stelle. L'esercito italiano ha trovato la forza di riscuotersi e gli ospedali chirurgici mobili fanno la loro parte. Purtroppo nell'estate del 18 e nell'autunno del 18 interviene anche l'epidemia di Spagnola e i letti che dovevano essere riempiti dai feriti sono spesso riempiti da malati di questa nuova epidemia. La sentiamo molto vicina in questi giorni di coronavirus ma l'epidemia di Spagnola fu allora estremamente devastante. La mortalità nelle città salì vertiginosamente. I giornali ne parlavano, ne davano notizia quotidiana anche se con molta accortezza e con molte censure per evitare il panico. Ma la mobilità degli ospedali chirurgici mobili ridiventa molto importante al domani della battaglia di Vittorio Veneto. Vinta la battaglia di Vittorio Veneto comincia l'inseguimento del nemico sconfitto lungo la piana e la riconquista e qui gli ospedali chirurgici mobili seguono l'armata e si installano nei vari posti a sostegno della popolazione e dell'esercito in avanzata. Finalmente con la fine del 18 e con l'armistizio la loro opera diventa meno pressante, meno impellente, meno necessaria al fronte e invece i sanitari diventano molto più importanti sul territorio perché la Spagnola sta ancora imperando e allora gli ospedali chirurgici vengono smobilitati. Alla fine, dopo le molte polemiche che c'erano state nel 17 circa l'utilità, circa il costo eccessivo di questa unità, che bilancio si può trarre? Nel solo ospedale chirurgico mobile Città di Milano, uno solo dei tre della Croce Rossa, furono operati più di 5.000 pazienti. La mortalità per i feriti addominali, che era praticamente il 100% all'inizio della guerra, dopo l'attività degli ospedali chirurgici mobili, ebbe una brusca caduta e la sopravvivenza raggiunse il 38-40%. Questo con cifre standardizzate in tutte le unità, mobili, sia quelle della Croce Rossa che quelle della sanità militare. Quindi, calcolando i vari rapporti che ci sono per le varie unità, si può pensare che non meno di 20.000 persone abbiano beneficiato dell'opera delle unità mobili. Non solo, ma queste, con la loro competenza e con la loro dotazione, furono importantissime per fare da volano a tutte le altre strutture più stabili e a cambiare le modalità e le procedure di approccio. La specializzazione si fece strada. Le ricadute sulla vita civile furono del pari importante, non solo sugli addominali, ma anche sulle ferite craniche e sulle ferite toraciche. Se volessi concludere con un esempio per decidere se ne è valsa la pena o no, vi dirò che nel fondo solaro è custodita una foto del capitano solaro scattata da Carlo Ludovico Bragaglia. Carlo Ludovico Bragaglia era un celebre fotografo delle dive, Lida Borelli e altre dive coeve. Carlo Ludovico Bragaglia era un sottotenente d'artiglieria e fu ferito da una ferita devastante all'addome al torace. Trattato in un primo momento per la ferita dell'addome, venne ricoverato all'ospedale di Quisca, al città di Milano, per la ferita al torace. Lo davano tutti per spacciato. Carlo Bragaglia ce la fece. Ritornò al suo paese. Siccome si chiamava Carlo, era talmente mutilato che l'hanno chiamato il resto del Carlino. Carlo Bragaglia ha raccontato questa sua esperienza a cento anni in una brillante intervista in cui ha dimostrato con la sua lucidità che tutto lo sforzo delle unità chirurgiche mobili è valsa la pena. Carlo Bragaglia ci ha regalato film celeberri con Totò, con De Sica, ha incontrato Dile, è stato un esempio incredibile del cinema prima dei telefoni bianchi e poi anche del primo neorealismo. È stato il testimone vivente a cent'anni della utilità degli ospedali chirurgici mobili e questo vuol dire che con l'impegno personale integrato con le strutture sanitarie generali e armonizzato nell'ambito di tutta l'assistenza sanitaria generale si può veramente fare la differenza. La riflessione finale che può proporre lo storico della medicina fa riferimento alla stretta attualità, fa riferimento all'attuale pandemia in atto, fa riferimento a quelle strutture sorte per rispondere alla dimensione emergenziale di questa pandemia. Il primo riferimento milanese può andare all'ospedale allestito nei padiglioni della Fiera Milano e se pensiamo e compariamo il modello di realizzazione, finanziamento e attivazione dell'ospedale della Fiera di Milano attuale, vediamo che è esattamente lo stesso modello attuato per il finanziamento, l'ideazione, la realizzazione degli ospedali chirurgici militari di guerra. Mutatis mutandis, la struttura funziona alla stessa maniera. La responsabilità del personale ospedaliero che dovrà gestirlo è la stessa responsabilità che era stata data ai medici dell'ospedale maggiore per la gestione degli ospedali chirurgici mobili. Possiamo dire allora che tutto è mutato ma niente è mutato e quindi la riflessione storica può anche aiutarci a comprendere meglio le esperienze del presente. Molto bene, molto interessante, grazie davvero ai relatori che ci hanno affascinato con questa vicenda fino adesso quasi sconosciuta o totalmente sconosciuta. Grazie al pubblico che ci ha seguito con pazienza e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.